Il marito di Nazanin, Zagari Ratcliffe, detenuta dal 2016 in Iran, è in sciopero della fame da 19 giorni fuori dal Ministero degli Esteri Britannico. Chiede al governo di trattare il rilascio. Zagari Ratcliffe è detenuta con l'accusa di aver complottato per rovesciare il governo, cosa che lei e i suoi sostenitori negano con forza.